Con 421 chili per abitante è Capolona il comune più virtuoso dell'Aretino, ossia quello che produce la quantità minore di rifiuti urbani. Questi i dati elaborati dall'Agenzia Regionale Recupero Risorse, che ha stilato un dettagliato quadro dello scenario a livello provinciale e regionale. In media dunque la produzione di rifiuti urbani in Toscana nel 2018 si è testata a 613 kg per abitante, mentre la raccolta differenziata ha raggiunto il 50,05% superando la media nazionale del 2017 55,54%. Nello specifico, poi guardando la regione dal punto di vista delle Ato, l'Ato Toscana Centro ha una produzione per abitante pari a 579 kg, seguita dall'Ato Toscana Costa con 627 kg ed infine dall'Ato Toscana Sud con 619 kg. Scendendo ancora a livello provinciale, è invece capolora ad avere la produzione più bassa di rifiuti con 421 kg per abitante, chiusi della Verna invece a quella più alta, 918 kg. Solamente due invece i comuni che superano il 65% di raccolta differenziata, Civitella e Valdichiana 71,20% con il miglior dato di raccolta, seguito da Monte San Savino con il 70,50%. Il comune capoluogo invece vede una produzione di rifiuti urbani di 618 kg pro capite con un complessivo di differenziata pari solamente al 40,31%. Il comune capoluogo invece vede una produzione di rifiuti urbani di 619 kg. Il comune capoluogo invece vede una produzione di rifiuti urbani di 619 kg.